Buongiorno, bentornati a BB's Live, anche questo lunedì vediamo un po' di novità sul mondo appunto della finanza alternativa e in primo luogo vi faccio un punto sul tema Club Deal e Search Fund, questo perché? Perché per Milano Finanza BB's ha fornito una mappa di questi veicoli di investimento che hanno appunto vari tipi di strutture e quindi abbiamo deciso di fare il punto della situazione perché effettivamente cominciano a essercene parecchi e sono anche molto attivi. In totale abbiamo mappato 39 veicoli di investimento in Club Deal che includono anche 13 Search Fund, noi abbiamo deciso di inserire Search Fund all'interno di questo gruppo di investitori perché effettivamente poi vedremo se si tratta alla fine di un Club Deal. Allora, diciamo che abbiamo individuato quindi due strutture sostanzialmente di Club Deal, da una parte ci sono delle società che sono fondate da promotori di questo tipo di investimenti, quindi un investimento che porta un gruppo di investitori privati insieme a investire appunto in una società già strutturata piuttosto che in una start-up e chi organizza appunto questi investitori sono diciamo delle persone fisiche che a loro volta hanno costituito un veicolo di investimento, quindi questo veicolo in realtà va a proporre gli investimenti e poi via via si creano degli SPV, quindi degli veicoli specializzati costituiti apposta per investire in una determinata società e in questi veicoli appunto coinvestono poi dei privati. Questa è una tipologia. Poi c'è un'evoluzione di questo tipo di investimento dove alla capitale stesso del veicolo, diciamo promotore del Club Deal, partecipano già direttamente degli investitori privati e poi nel momento in cui questo veicolo identifica un'opportunità di investimento, gli stessi investitori, quindi già presenti nel capitale della società che organizza il Club Deal, a questo punto possono anche essere i libri di coinvestire ulteriormente per i vari deal, quindi scegliendo quelli al quale partecipare, quelli no. Poi c'è, dicevo, la soluzione del search fund dove il promotore, il cosiddetto searcher, raccoglie appunto in un veicolo, quindi il famoso search fund, questi investitori, quindi anagolamente alla struttura di cui abbiamo appena parlato, quindi questi investitori entrano nella società che va alla ricerca dell'opportunità di investimento, in questo caso quindi una singola opportunità, nel momento in cui questa opportunità vede individuata, i partecipanti al capitale del search fund, anche qua, sono liberi di scegliere se seguire, quindi investire poi in un SPV che viene costituita ad hoc per investire nella società target, oppure se invece tirarsi indietro. Quindi abbiamo queste tre strutture e, dicevo, ormai ce ne sono, sono parecchi di attori e soprattutto hanno già investito, alcuni hanno già disinvestito, peraltro anche in operazioni che hanno visto coinvolte come acquirenti poi dei fondi di private equity, di un livello importante e dall'altra parte in alcuni casi questi veicoli hanno coinvestito a loro volta con degli investitori istituzionali, quindi già di private fondi di private equity che quindi hanno affiancato questo gruppo. Quindi chi vorrà vedere appunto le tabelle con tutte le specifiche può andare appunto su BBIS e scaricarsi le tabelle, si tratta comunque di una ricerca che fa parte del nostro abbonamento New Springium. Altre notizie invece, che sono appunto notizie anche importanti della settimana, le racconto in una carrellata, allora a proposito di Club Deal, abbiamo Neoapotech che è, diciamo, una catena di farmacie che sta crescendo in maniera importante, quindi per aggregazione, qui tutto si è creato grazie all'inserimento di capitali da parte di Banca Profilo che a sua volta ha organizzato un Club Deal con i propri clienti e quindi in totale alla fine hanno raggiunto i 130 milioni di euro di raccolta quindi tra il Club Deal e le famiglie principali titolari della primo nucleo di farmacie che è stato acquisito, quindi alla famiglia Riva, Cocchi e la famiglia Passoni. Vi parlo di questo perché la scorsa settimana Neoapotech ha ottenuto un finanziamento in direct lending da TKO Capital, quindi il fondo noto specializzato in private debt, ma anche poi in private equity, in real estate, fondo che è stato affiancato in questa operazione da Root Capital, quindi il totale del finanziamento sono 100 milioni, quindi questo sempre per poter dotare poi la società di ulteriori capitali per andare a continuare la sua attività di M&A. Poi notizia importante del mondo immobiliare, abbiamo avuto la risposta della Corte d'Appello di Milano che ha confermato un lodo arbitrale a favore di Blackstone nella diatriba con RCS a proposito della vendita dell'immobile di via Solferino in quest'idea del Corriere della Sera. Vi ricordo che la vendita era stata fatta nel 2013 per 120 milioni, successivamente Blackstone stava trattando la vendita a sua volta dell'immobile ad Allianz per 250 milioni, con il momento lì è entrato nel capitale di RCS Urbano Cairo il quale ha detto no fermi tutti, qua c'è stato qualcosa che non va, la vendita iniziale era stata fatta a un prezzo troppo basso e quindi da lì c'è stato il ricorso, si è passati appunto alla Camera arbitrale. Adesso cosa succede? Tutta la palla passa alla Corte di New York, perché Blackstone già ai tempi aveva chiesto risarcimento dei danni e si era parlato di 600 milioni di dollari di richiesta, quindi insomma è una faccenda piuttosto intricata e piuttosto pesante per RCS se dovesse andare male, comunque l'udienza è per il 25 di luglio a New York. Infine ricordo che Paluani, chiaramente un noto produttore di dolciumi per le ricorrenze, soprattutto per i Pandori andrà all'asta l'11 di giugno, proprio perché l'offerta che era arrivata da Sperlari per le attività del gruppo Paluani è stata depositata, è stata accettata da Paluani e quindi in base a questo è stato depositato il piano concordatario al Tribunale di Verona e adesso per legge comunque è necessario che ci sia un'asta in modo da permettere ad altri potenziali interessati di intervenire e fare la loro offerta. La base d'asta adesso è 7,6 milioni, quindi sono 100 mila euro superiore all'offerta fatta da Sperlari. Comunque tutto quanto dovrà terminare entro il 15 di luglio, proprio perché questa è la data che Sperlari aveva fissato come ultima per poter mantenere la propria offerta. Questo perché per cominciare la campagna di Natale bisogna cominciare a lavorare adesso e quindi l'investitore che entra deve entrare proprio nel momento in cui la campagna inizia e non trovarsi a metà della corsa. Adesso vi lascio e subito dopo la pubblicità faremo un approfondimento importante e molto interessante su MV Agusta che come sapete è una grande brand di motociclette ha passato difficoltà, adesso sta riprendendo, rilanciando proprio il suo business e parleremo con Timor Sardarov che è il CEO appunto di MV Agusta. Quindi ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Grazie. Grazie.